questi fiori sono belli sono maggio ciondolo questo è un fiore altamente come si dice significativo no fa molto crea molto interesse perché bello giallo con i fiori a cascata e a pendolino ma nel mezzo del bosco lo è ancora di più io sono venuto qua per allontanarmi dal casino che c'è stamani ieri ieri l'altro per una serie di idioti che credono di essere a monza e hanno fanno delle corse in salita e tutto questo anche corroborato e in qualche modo sopportato e supportato da tutta un'altra serie di idioti che sinceramente non credo che andranno poi molto lontani comunque stavo facendo una piccola riflessione da italiano medio il la riforma della giustizia ma certo il presidente del consiglio vuole la riforma della giustizia di quella giustizia che ha permesso a lui tramite i suoi legali di in un modo o nell'altro rimandare una serie di processi con cavilli con tutta una serie di impedimenti di ogni genere eccetera eccetera il giorno in cui la giustizia dovesse essere e dovrà essere riformata lui dove va dove scappa in uganda no perché amin è stato levato di turno dal suo amico gheddafi no perché fra poco lo incastrano non lo so forse i prenoti un bel viaggetto sulla luna ma di solo biglietta di andata per cortesia arrivederci